Disco Radio ti porta al cinema Se c'è qualcuno che può salvare Arendelle, sei tu! Frozen 2, il segreto di Arendelle. Elsa ha imparato a controllare i suoi poteri, ma sente un richiamo che le mostra frammenti del suo passato promettendo le risposte sulla sua identità, ma sono risposte che minacciano il suo regno. Un giorno di pioggia a New York, un weekend romantico da trascorrere insieme proprio a New York che va in fumo non appena la giovane coppia, protagonista del film, mette piede in città. Ciao Ashley! Non ti posso parlare adesso. Che cosa mai ci può essere di tanto segreto? A meno che non stiano succedendo strane cose. A meno che non stiano succedendo strane cose. Midway. La vera storia della battaglia combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno del 1942, punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale. Washington non è d'accordo. Washington sbaglia. A Torbella Monaca non piove mai. Il film racconta la vita di due fratelli, Mauro e Romolo, in uno dei quartieri di Roma, Torbella Monaca, quello che per molti è la normalità, per loro è un'utopia e la tentazione dei soldi facili è molto forte. Io te giuro che ti ho passato tutto quello che cerchi in vita. Te lo giuro. Discoraggio!